Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Lunga domenica elettorale, quella di ieri per le amministrative che in Italia hanno riguardato 1.400 comuni. Nella notte sono arrivati i risultati, davvero tanti i ballottaggi. Ci soffermiamo su Padova che va proprio al ballottaggio tra Massimo Bitonci e Giordani. Risultato elettorale scontato a Padova. Le previsioni davano il ballottaggio tra Giordani e Bitonci e così è stato. Massimo Bitonci, sostenuto da Lega Nord e tutto il centro-destra, ha ricevuto consensi per il 40,2%. Giordani, rappresentanza del PD, ha raggiunto il 29,3%. Ha sorpreso il risultato ottenuto da Arturo Lorenzoni, che alla guida di una coalizione civica dell'area di centro-sinistra ha raggiunto il 22,8%. Solo un 5,3% per il Movimento 5 Stelle con Simone Borile, che si attesta sulle percentuali raggiunte dal Movimento anche in altre zone italiane. Dunque si pronuncia una battaglia intensa in queste due settimane per la scelta definitiva del sindaco che guiderà la città di Padova. Massimo Bitonci, come unico candidato per il centro-destra, ha ottenuto un punteggio maggiore rispetto a quello che veniva ritenuto suo maggiore rivale, ma pochi avevano ipotizzato il possibile risultato di Lorenzoni. Da capire in questa nuova tornata elettorale come saranno le intese. Al ballottaggio anche altri due comuni padovani sopra i 15.000 abitanti, Abano Terme e Vigonza. E dunque avete sentito i risultati padovani, passiamo al territorio della provincia di Venezia. Vanno al ballottaggio quattro dei cinque comuni veneziani oltre i 15.000 abitanti. Stiamo parlando di Mira, Mirano, Jesolo e Marconna. Vittoria netta invece per Santa Maria di Sala con la riconferma del sindaco uscente Fragomeni. E adesso ci spostiamo a Verona, altra città veneta, con una sfida davvero tosta e che andrà al ballottaggio. A Verona ci sarà un ballottaggio tra Federico Sboarina e Patrizia Bisinella, candidata di fare e compagna del sindaco Flavio Tosi. Sboarina attorno al 29,26%, mentre Bisinella è sul 23,54%, secondo dati del Comune di Verona riguardanti 268 sezioni su 268. Staccata di un punto percentuale, Orietta Salemi, 22,48%, sostenuta dal PD e liste civiche. Per tutta la notte è stata una battaglia per il secondo posto tra l'esponente di fare e la candidata Dem. Se nel capoluogo bellunese la sfida al ballottaggio il 25 giugno prossimo sarà tra il sindaco uscente Jacopo Massaro e Paolo Gamba, entrambi a capo di formazioni civiche, in provincia si è registrata l'affermazione del centro-sinistra a Feltre, mentre la mancata riconferma del sindaco uscente di Auronzo di Cadore pone la questione della presidenza della provincia, carica dalla 2014, detenuta da Filonna. A Cortina invece è eletto Gianpietro Ghedina, mentre a Pieve di Cadore l'unico candidato, Giuseppe Casagrande, non potrà essere proclamato sindaco per l'insufficiente affluenza di votanti ai seggi. E adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di cronaca. Domenica tragica per due coppie di motociclisti rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Camporovere di Roana, in provincia di Vicenza, sulla strada provinciale 349 del Costo. Due moto di grossa cilindrata si sono scontrate. A bordo c'erano due coppie, una donna di 61 anni è morta, aveva perso la vita grave in la conducente. Rimaste ferite anche le due persone che viaggiavano nell'altra moto. La ricostruzione dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco di Asiago e volontari del soccorso alpino. E parliamo adesso invece di tre incidenti che si sono verificati questa mattina molto presto lungo l'autostrada A4 e che hanno provocato inevitabili disagi alla circolazione. Viabilità difficile lunedì mattina sulla A4 Venezia Trieste è causa di tre incidenti stradali. Gli incidenti, tutti tra mezzi pesanti, hanno creato lunghi incolonnamenti in mattinata e deviazioni. Il primo sinistro è avvenuto alle 6.20 circa, tra due camion, uno italiano, l'altro ungherese. Lo scontro è avvenuto a ridosso dell'uscita di Sanstino di Livenza. Immediate le ripercussioni sul traffico, già congestionato dalla ripresa del transito dei mezzi pesanti, fermi per il weekend. Per ridurre la pressione sulla A4, autovie ha attivato il bypass, reindirizzando il traffico sulla A28-A27. Alle 6.40 il secondo schianto nello stesso tratto e con le stesse modalità. In entrambi gli incidenti non si sono mai verificati blocchi completi del traffico e la corsia di sorpasso è rimasta sempre libera, consentendo così il deflusso, anche se lento. Il terzo incidente è avvenuto alle 8.05, anche in questo caso camion tamponati in corsia di marcia e code quasi fino alla tisana. Agli incidenti veri e propri si è aggiunto un mezzo in panne a causa dello scoppio di una gomma nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e la tisana, dove insiste il cantiere per la realizzazione della terza corsia. I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte dopo le 2.30 in via Cafferrante a Casalserugo, in provincia di Padova, per un incendio divampato in una carrozzeria. I pompieri hanno spento le fiamme, riuscendo ad evitare l'estensione del rogo. Bruciate diverse automobili e anche molti macchinari presenti all'interno dell'azienda. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba. In Italia c'è un settore in crescita. Si tratta purtroppo del mercato del falso. Non parliamo dunque di una cosa positiva. Sentite addirittura i numeri che sono emersi. Il mercato del falso nel nostro paese rappresenta numeri da capogiro, con evidenti danni all'intera comunità, per il mancato introito del gettito fiscale, per altrettanti numeri da far venire i brividi. I dati sono stati ricavati da una ricerca del Censis per conto del MIS, Ministero Sviluppo Economico. Il mercato del falso in Italia vale 6,9 miliardi di euro ed è in crescita del 4,4% rispetto al 2012. Secondo la ricerca, produrre e commercializzare gli stessi prodotti nei circuiti dell'economia legale comporterebbe 100.000 unità di lavoro in più senza la contraffazione. Inoltre, la produzione interna registrerebbe un incremento di 18,6 miliardi con un valore aggiunto di 6,7 miliardi. L'emersione della contraffazione significherebbe anche un aumento del gettito fiscale tra imposte dirette e indirette, perché oggi il mercato del falso sottrae all'erario 1,7 miliardi di euro. Se si considerano anche le imposte che deriverebbero dalla produzione attivata in altri settori dell'economia, il gettito fiscale complessivo aumenterebbe a 5,7 miliardi di euro, pari al 2,3% del totale delle entrate dello Stato per le stesse categorie di imposta. Dalla ricerca emerge anche la tipologia di prodotti più falsificati, in testa, abbigliamento e accessori. Alla presenza del prefetto di Padova Renato Franceschelli e della consigliera della provincia di Padova con delega al lavoro Elisa Venturini, è stato sottoscritto in prefettura un protocollo d'intesa tra Ali Spa, operatore della grande distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non, e le organizzazioni sindacali CGL, Cisla e Will, con il documento frutto di un lungo e approfondito lavoro, le parti assumono reciproci impegni in tema di cambi di appalto e procedure di raffreddamento e regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Il prefetto Franceschelli ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta, volta da un lato a salvaguardare i livelli occupazionali del settore della logistica in occasione di cambi d'appalto e dall'altro di introdurre norme di autoregolamentazione per la composizione dei conflitti. L'auspicio del prefetto di Padova è che il modello d'accordo raggiunto all'interno dei magazzini del gruppo Ali possa essere preso ad esempio e quindi esteso anche ad altre realtà della grande distribuzione. E adesso parliamo di clima, ondata di caldo su tutta Italia. Sentiamo allora una previsione generale del territorio, non solo a livello locale, considerando anche che è tempo di vacanze e quindi per molti c'è anche la possibilità di spostarsi in altre regioni. Ecco cosa dobbiamo aspettarci. Nei prossimi giorni l'alta pressione del bollente anticiclone africano occuperà il Mediterraneo centrale e occidentale espandendosi per ben 4.000 chilometri portando così caldo torrido soprattutto su Portogallo e Spagna dove le temperature toccheranno picchi anche superiori ai 40 gradi. Il tempo però, affermano gli esperti di centro Epson Meteo, avrà caratteristiche tipicamente estive anche in Italia dove le giornate saranno in generale belle e soleggiate con temperature in graduale aumento e già a metà settimana diffusamente intorno ai 30 gradi ma con punte massime che si spingeranno fino a 35-36 gradi. La percezione del caldo sulla pelle potrà essere localmente accentuata dal disagio dell'AFA, specie in pianura a Padana, nelle zone interne del centro-sud e in Sardegna. Qui infatti le temperature percepite potranno avvicinarsi ai 40 gradi anche in città in cui il termometro segnerà valori inferiori. Nei grossi centri urbani il disagio del caldo si farà sentire anche nelle ore notturne. Possibile un parziale peggioramento del tempo a nord-est tra mercoledì e giovedì quando l'infiltrazione di correnti fresche e atlantiche potrebbero favorire la formazione di qualche temporale senza tuttavia guastare del tutto il tempo e attenuare soltanto il caldo. A Padova domani celebrazioni per la festa del Santo attesi i 100.000 fedeli. Negli ultimi giorni sono aumentate le misure di sicurezza. Forse si tratta delle misure più importanti mai adottate sul territorio della Basilica. Aumento di uomini e mezzi che sorveglieranno l'area dove saranno presenti i fedeli. Ovviamente alla luce degli ultimi attentati terroristici. Spiritualità e devozione si fondano nella rievocazione storica del transito di Sant'Antonio appuntamento in programma durante la serata di lunedì con la partenza alle 20.30 dall'Arcella. Domani ricordiamo che saranno numerose le celebrazioni previste quasi ogni ora all'interno della Basilica a partire dalle 6 del mattino e la Basilica resterà aperta dalle 5.30 fino alle 22.30. Il tempo, abbiamo sentito un po' cosa aspettarci nei prossimi giorni, abbiamo sentito prima nel servizio vediamo uno sguardo alla giornata di domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su rilievi e zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel pomeriggio. È tutto per questa edizione ringrazio tutti voi per l'attenzione vi aspetto domani e vi auguro una buona serata. ringrazio tutti voi per l'attenzione